La giornata di domani si presenta Ardua. Sono in arrivo la nostra Peugeot 207 e le Pirelli. E poi partiremo dagli impianti, solo che il sciatore prende la seggio via. Noi invece saliremo con la nostra macchina, passando da pendenzi che vanno dal 34 al 54%. Questo è il progetto, quindi teniamo le detenze imponciate e speriamo che Polvo ce la faccia. Noi abbiamo delle propensità se la macchina riesce a salire, perché abbiamo una pendenza del 52-54%. Ci vorranno anche le condizioni di Galileo e l'anero che fa diversamente per la scatafare. Non preoccupare, vai. Sposta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.